Cercare Dio, desiderare Dio, ma ancora prima scoprire che è Dio che mi desidera. È un po' il cammino che abbiamo iniziato e che vogliamo proseguire. Così, molte volte anche lasciandoci guidare dallo spirito e dal cuore. E proprio nella puntata di ieri ci siamo detti che per scoprire che Dio mi desidera devo chiedere a Lui di insegnarmi come scoprirlo, come cercarlo. Alle mie spalle vedete le reliquie del corpo del servo di Dio Pari Raffaele da Sant'Elia a Pianisi, che qui tutti, ma anche i suoi paesani, conoscono nel mondo come il monaco santo. Io ho incontrato alcuni suoi devoti e compaesani in Canada, in America, e mi parlavano sempre di questo frate che è morto qui nel 1901. Un frate molto ancora oggi ricordato e amato dalla gente. Era sempre dalla parte degli ultimi. Era sempre per difendere i deboli, per difendere chi non si poteva difendere. Ha avuto e ha vissuto una vita di totale obbedienza, di umiltà e di penitenza. I suoi studiosi, gli storici dicono che è morto più per le penitenze che ha fatto nella sua vita che per il suo stato di salute e per la sua età. Ma quest'uomo, questo frate, anche lui ha chiesto al Signore di essere avviato, condotto per mano nella ricerca sua, nella ricerca di Dio. L'uomo quando scopre che Dio lo desidera, poi lui desidera non solo Dio, ma che anche gli uomini lo conoscono. E allora qui torniamo a Sant'Anselmo che abbiamo citato ieri. Sant'Anselmo, oltre che dirci, insegnami Signore a cercarti, a mostrarti quando ti cerco, ci dice, con le parole che ora andrò a dirvi, anche il modo per essere certi di trovare il Signore e di averlo trovato. Che io ti cerchi desiderandoti e ti desideri cercandoti. Che io ti trovi amandoti e ti ami trovandoti. Ecco, la chiave di interpretazione, la chiave di svolta è l'amore. La strada attraverso cui io trovo Dio, io scopro che Lui mi desidera, ed è l'amore, nel momento in cui io amo Dio e amo gli altri, questa è la prova che io veramente ho scoperto che Dio mi desidera e che nel mio cuore c'è il desiderio di trovarlo e di cercarlo continuamente. Grazie ancora a tutti, vi aspetto domani, sempre da Santeria a Pianisi, Padre Pio TV, Dritto al Cuore. Ciao a tutti! Grazie a tutti!